Oggi, piccola curiosità sui tiraggi delle candele di accensione sul motore benzina. Vi faccio vedere. Ormai anche le candele di ultima generazione non sono più riportati in newton metodo a tirare con la dinamometrica, ma ci insegnano come tirarle a mano. Si tira sotto la candela un sedicesimo di giro e mezzo giro. Seguendo le istruzioni, anche a mano sarà semplice tirare perfettamente con i tiraggi corretti una candela di accensione. La dinamometrica, anche le case costruttrici ce la stanno facendo dimenticare. Alla prossima curiosità, ciao ciao!